ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora come potete vedere io ho fatto una copertura a questa mia cliente e non ho detto mai adesso vi dico anche le cose che ho utilizzato come preparatori eccetera prima di tutto ho messo nel prep tutte cose di passione unghie quelle che vi sto dicendo adesso nel prep il primer e il binder binder come lo voglio chiamare e infine dopo ho utilizzato come base il gel base alfa infine per fare la bombatura ho utilizzato olimpia 2 che mi ci trovo veramente veramente da dio e non lascerò mai più non lo metterò mai più questo tipo di gel monofasico che poi comunque riusciti tanti altri nuovi di questi gels e passione unghie poi quando sarà casomai ne posso provare anche di un altro tipo però comunque limpe 2 mi ci sono trovata veramente veramente bene d'estate soltanto un po troppo scivoloso quindi un po più morbido un po più difficile da lavorare perché scivola cola un pochino e d'inverno invece ho notato che adesso si è indurito un pochino e quindi si lavora abbastanza bene e mi piace veramente tanto e poi niente alla fine vabbè ovviamente limate sempre la struttura eccetera eccetera spolverate eccetera e infine ho applicato questo bellissimo colore che si chiama fucsia fluo sempre di passione unghie sempre due passate e nell'anulare sono andata ad applicare questo gel brillantinato glitterato come lo vogliamo chiamare non è di passione unghie e sempre no io ho dato qui ho fatto vedere due passate alla fine ho dato una terza passata così è molto più coprente niente io spero che questo video vi piacere se sarà così metterete un po' di censo se volete solito video mi commentate e niente io vi lascio vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao